Nelle prime ore della mattinata del 19 maggio, in diverse località del Cilento, i militari della Compagnia Carabinieri di Agropoli, insieme alle unità del nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di 10 indagati, di cui 5 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e uno con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, responsabili di detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta dell'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, nei confronti di 10 indagati, di cui abbiamo 5 persone sottoposte alla custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari e uno all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Si tratta di persone tutte del Cilento, di un'età differente, abbiamo sia ragazzi più giovani che persone un po' più grandi, ritenute responsabili della violazione dell'articolo 73 del DPR 309 del 90, ovvero detenzione, trasporto e cessione in particolare di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa denominata 87 ha permesso di documentare svariati episodi di cessione anche a minorenni di numerosi quantitativi di sostanze psicotrope di tipo cocaina, hashish, marijuana, recuperati e sequestrati ingenti quantitativi di droga confezionata per la vendita al dettaglio. L'attività di indagine nasce nel marzo 2019 e si protrae per tutta la primavera e poi l'estate. ha riguardato diversi mesi in cui è stata svolta un'attività intercettiva, quindi sia attività tecniche che attività così squisitamente tradizionali, come le chiamiamo noi, di pedinamento, di osservazione con dei servizi mirati, soprattutto a documentare queste attività di vendita al dettaglio. Che riguardava la piazza dell'intero Cilento, diversi comuni, fra cui Agropoli, Castellabate, Laureana Cilento, Torchiara, Casalvelino, la cessione di sostanze stupefacenti, fra cui abbiamo cocaina, hashish e marijuana, ha riguardato in diversi casi anche dei minorenni. Che quantità di sostanze stupefacenti sono state recuperate, quindi poste poi sotto sequestro? Abbiamo diverse quantità recuperate nell'arco dell'attività investigativa, in particolare per la mattinata odierna in cui è stata eseguita anche un'attività di perquisizione domicilio a casa delle persone indagate, abbiamo circa 500 grammi di sostanze stupefacenti varia, tra cocaina, hashish e marijuana, con dei bilanci di precisione, del materiale datato e di confezionamento che servivano proprio a suddividere le dosi. In particolare alla perquisizione di oggi hanno preso parte l'unità cilicarabiniera del nuovo che i cani curano in questa attività. Per quanto riguarda le piazze di spaccio, lei ha detto che è un'operazione svolta nel cilento, possiamo avere anche il nome delle città in cui queste persone spacciavano le sostanze stupefacenti nel dettaglio? Sì, nel dettaglio ha riguardato Torchiara, Laureana Cilento, Castellabate, Capaccio, Casalvelino, Vallo della Lucania, Montano Antilia, ricordate qui a fianco a me che sono un po' tante, Ogliasso Cilento e Sessa Cilento, come vedete diversi comuni, però la piazza principale era quella di Agropoli, presso cui risiedevano la maggior parte degli indagati. E la modalità di spaccio invece come è avvenuta, Capitano? Si trattava di incontri casuali, nel senso che erano incontri assolutamente predeterminati che però acquisivano un carattere di casualità, di razionalità, perché comunque derivavano da comunicazioni interne con un linguaggio piuttosto criptico che siamo riusciti a decifrare e all'interno di questi incontri avveniva proprio la cessione in maniera molto veloce, lo scambio tra il denaro e la quantità di sostanza stupefacente già preordinata. Dunque Capitano, la banda è sgominata a questo punto, grazie a questa operazione? Sì, assolutamente, l'operazione è stata un successo, siamo riusciti a mettere nelle mani della giustizia questi dieci indagati, però l'attività prosegue perché ovviamente non si esaurisce con solo dieci persone.